Buongiorno amici, sono Cristiano Vignari, vi auguro buon anno, anche buon 2023, anche se io sono stato colpito da un lutto, è morta mia nonna, improvvisamente nel sonno, il primo dell'anno. E niente, volevo cogliere l'occasione per parlare dell'inizio di quest'anno, un anno importante sia a livello personale del sottoscritto che vuole raggiungere gli obiettivi personali, sia un riconoscimento a livello culturale, sia a livello economico, ma anche un anno importante per le attività che svolgeremo con il censorino teatino e il rilancio anche di Abruzzo Tourism, la nostra società che è l'associazione che si occupa della promozione del territorio abruzzese. Allora, intanto il 2013 sarà il decennale della nascita del censorino teatino fondato nel 2013, anno che seguì nei primi mesi del 2013 a seguito della lotta per la difesa della provincia di Chiedi che capeggiai tra ottobre e novembre del 2012. Da lì nacque la prima pubblicazione della saga dei libri che ho pubblicato sulla storia abruzzese, Chiedi medievale, la storia del comitato teatino, che volevo ricordare che il primo aver scritto recentemente dei libri su Chiedi medievale, su alcuni specifici, su determinati argomenti, soprattutto di tipo geopolitico, infatti Chiedi medievale è stato definito un manualetto geopolitico, sono stato io e a breve raccoglierò tutti i miei libri scritti sulla tarda antichità e il primo medioevo e il pieno medioevo in un unico volume che verrà ripubblicato e diffuso in tutta Italia tramite il nostro canale di distribuzione. Che cosa faremo? Quest'anno il decennio del censorino faremo sicuramente una festa, una festa con musica, buffè, una festa dove regaleremo ai poveri della città una serie di vestiti, circa 300-400 vestiti che faremo lavare e che regaleremo a uomini e donne bisognosi della città di Chiedi. Continueremo la spesa su spesa, un'attività che comunque va a rilento, non per le scarse donazioni ma bensì perché non possiamo più disporre di tutti i negozi, di tutte le attività che avevamo in passato in quanto alcune sono state prese da altre organizzazioni. Noi continueremo e appena sarà possibile, appena avrò risolto alcuni contenziosi economi, spero di risolvere quest'anno con l'agenzia delle entrate personali, finirà la commedia delle raccolte dirette perché i negozi che vogliono donarci continuano a donarci, ovviamente come sempre hanno fatto i nostri negozi del centro, e vi ringraziamo tutti, ma faremo dei buoni, 10 euro al giorno stanzieremo, quindi 300 euro al mese, ogni giorno una famiglia che potrà comprare carne e ha un discount della città, una macelleria o un discount della città, armi oppure altri generi di prima necessità. Inoltre, penso, volevo fare una chiosa finale sul censorino teratino, il censorino teratino nasce a seguito dei miei studi quando ero assistente di storia delle relazioni internazionali sulla cosiddetto ruolo politico del blog power, il potere del blog di influenzare la società e la politica, a seguito delle rivoluzioni arabe all'inizio del 2010-2011, tra il 2010 e il 2011. In quel periodo si afferma il potere del blog e noi abbiamo adattato questo strumento alla realtà locale, la magia del censorino è stato proprio quella di essere stato il primo strumento che ha permesso al cittadino, tramite i social, di rientrare direttamente a contatto con la politica e di riuscire quindi a sensibilizzare l'opinione pubblica che prima era completamente sotto l'influenza della stampa, cosa che adesso purtroppo con le nuove censure che ci sono state, soprattutto dopo il Covid, è una situazione che bisognerà rivedere perché di nuovo si sta creando una censura, soprattutto a livello mediatico e a livello locale, una censura dell'informazione e un controllo più forte. Grazie.